Non risulta né l'una né l'altra cosa, risulta che le cose si stanno facendo puntualmente e nei tempi considerando alcune priorità di carattere internazionale a cui si sta dedicando la Presidente Meloni che riverberano anche sulle questioni nazionali, c'è grande compattezza come dichiarano tutti gli esponenti di tutte le forze politiche che confongono la maggioranza, quindi io credo che le ricostruzioni giornalistiche seppur legittime in questo caso non abbiano colto nel segno.